Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il naufragio del Bayesian, una lussuosa barca a vela affondata al largo di Palermo, ha preso una svolta tragica con il recupero di cinque corpi tra i sei dispersi. Dopo tre giorni di intense ricerche, gli speleosab dei vigili del fuoco hanno individuato i corpi all'interno di una cabina sul ponte inferiore, nascosti dietro mobili e materassi. Tra le vittime identificate ci sono il banchiere Jonathan Blumer e l'avvocato Chris Mulvillow, mentre si teme che gli altri due corpi appartengano al tycoon britannico Michael Lynch e alla figlia diciottenne Anna. Le operazioni di recupero, rese particolarmente difficili dalla profondità di 50 metri a cui è affondata l'imbarcazione, sono in corso dall'incidente avvenuto durante una violenta tromba d'aria domenica notte. Il bilancio delle vittime è salito a cinque, con il corpo del cuoco Macario Thomas recuperato poche ore dopo la tragedia. Restano ancora da trovare due dispersi. Gli inquirenti sono impegnati a ricostruire le cause del naufragio, avvenuto in pochi istanti. Tra i sopravvissuti, già ascoltati dalla procura di termini imerese, c'è il capitano neozelandese del veliero, James Cutfield. Mentre ulteriori testimonianze sono attese da parte degli altri superstiti, ospitati presso l'hotel Domina Zagarella di Santa Flavia.